Pierino, come sarà questa 36esima mostra del fungo? Siamo agli ultimi sgoccioli, siamo in fase di allestimento, ormai siamo a buon punto, mancano solo da esporre i funghi, però con questi temporali ci favorisce. Purtroppo dispiace per i villeggianti perché c'è la pioggia in giro, però per noi, i micologi e i cercatori di funghi in particolare, si prospetta una buona annata, ci sono delle buone fioriture. Attenzione perché ho già trovato il cortinario speciosissimo, un fungo velenoso mortale. Non è ancora fiorita la manita falloides, però penso che adesso comincia anche lei a fiorire insieme agli altri specie di funghi, perciò si prospetta una buona annata. Ho sentito diversi cercatori che si girano diverse vallate e possiamo essere con te soddisfatti appunto dell'andamento stagionale. Riguardo alla mostra abbiamo diverse novità quest'anno, diversi espositori. Tutti gli anni cerchiamo di cambiare qualcosa, di portare sempre qualcosa di nuovo. I funghi, senz'altro, quelli saranno sempre uguali. Spero cambieranno diverse varietà a secondo dell'andamento stagionale, però quello è sempre un discorso micologico e un discorso a parte riguardo agli espositori appunto che vengono alla nostra mostra. Ci sono i ragazzi del Centro di Orno Disabili che stanno appunto ultimando il loro stand, i ragazzi del CSE delle Fiorine. Abbiamo diverse esposizioni fotografiche, minerali, bonsai. Abbiamo Stefano Toriani che è molto conosciuto perché pubblica i suoi disegni, i suoi robbie con una serie di disegni anche lui. Il lui di Clusone con i suoi intarsi, battiporte in legno di Elio Barlassina di Gandellino e poi è tutta una mostra da vedere e da visitare. Maino e Beretta che portano sempre tantissime novità, scultori, abbiamo l'Adriano di Nasolino, il ferri delle Fiorine, abbiamo i legni della Val di Scalve, i cento legni che propone il mago, mago è conosciutissimo in modo particolare nella Val di Scalve, che ha un'esposizione di cento legni, appunto che rappresentano i 101 legni della Val di Scalve. Poi disegni delle scuole, scuole di Valcanale, scuole di Parre, scuole di Villadogna, cioè che hanno aderito alla nostra iniziativa e hanno portato i lavori che hanno svolto durante l'anno. Poi ci sono diverse novità, ancora è tutta da vedere, l'alleria di Clusone, adesso forse ho dimenticato qualcuno, perciò è tutta una mostra da visitare. Ricordiamo quindi quando sarà inaugurata la mostra? L'inaugurazione è sabato alle ore 15, ci sarà il corpo musicale Carlo Cremonesi che aglietterà l'apertura, il gruppo Quest'Ende Parre e la compagnia del Field Affair di Piario, ci sarà un aperitivo, un rinfresco rustico gestito da queste due associazioni, in collaborazione con il nostro gruppo, perciò vi aspetto sabato 4 agosto alle ore 15 per l'inaugurazione della 36esima mostra del fungo e della natura.